Allora, la realtà dell'Accademia è una granissima sfida prima di tutto, perché trovare ragazze che siano disposte a fare questo tipo di vita, questo tipo di attività non è facile. Non è facile perché le assorbiamo diciamo tutta la giornata, loro hanno un progetto proprio generale che si chiama Arte Formazione Cultura, per cui noi puntiamo all'eccellenza nella formazione della danza classica, infatti tutti i docenti dell'Accademia sono docenti che provengono dai paesi dell'est, quindi pura metodica Vaganova e ogni tanto ci accusano di essere vecchi, ma noi siamo felici di questa cosa, perché comunque noi puntiamo al repertorio alla danza classica, che è un patrimonio che non dobbiamo assolutamente abbandonare per nessun motivo al mondo. D'altra parte invece abbiamo la parte relativa alla formazione culturale e umana di questi ragazzi, che ahimè nel 2016 non può limitarsi alla danza, ma deve essere sicuramente una cosa a 360 gradi, per cui vengono preparati ugualmente con grandissima eccellenza per quanto riguarda anche la scuola, quindi sia il ciclo delle scuole medie che quello del liceo. Un occhio di riguardo anche per, diciamo alla fine, è un liceo linguistico, quindi anche con lingue dell'est che possono essere utili sia per un lavoro generale, sia per chi vuole danzare, perché visto che tanti maestri arrivano da quelle zone. Sì, effettivamente la scelta del liceo linguistico è una scelta precisa, nel senso che oltretutto i nostri allievi, finito l'ottavo anno, quindi al diploma, vengono mandati da noi direttamente a lavorare, nel senso che io dico sempre che il mio lavoro non finisce quando li diplomo, il mio lavoro in questo momento così difficile finisce quando io do la possibilità ai ragazzi di lavorare. E questo succede perché noi collaboriamo con una compagnia formata da ballerini russi fondamentalmente, e le nostre ragazze diplomate, per esempio, che sono diplomate a luglio, sono appena partite e sono in tournée proprio adesso. Quindi questo per noi è un motivo di grandissimo orgoglio, sono appena state a Praga, a Monaco, ieri erano a Lausanna, quindi insomma, e questo sicuramente unito alle loro conoscenze linguistiche in questo momento, perché sono in una compagnia dove ci sono russi ballerini che vengono a tutte le parti del mondo, e questo è fondamentale per loro per poter avere rapporti con il mondo, insomma, anche in questi loro tournée. Quanti anni l'Accademia è qua a Milano? Allora, l'Accademia compie 12 anni quest'anno, quindi siamo giovani, ma credo che abbiamo già fatto veramente tanto, soprattutto appunto per questo puntare alla qualità, sia per quanto riguarda l'Accademia, sia per quanto riguarda la formazione. Il percentuale di ragazze che escono da questa scuola, che poi riescono a proseguire nel mondo del balletto, è alta? Sì, sì, direi di sì, perché comunque è un percorso abbastanza complesso, per cui diciamo che qualcuno si perde nel cammino, perché sono otto anni, sono tanti, per cui chi ha questa forza e questo coraggio di arrivare, di lavorare con i nostri insegnanti che, ripeto, hanno proprio questa formazione, arrivano che sono pronti sicuramente per il lavoro. Non è un momento facile, però insomma, appunto, già un po' li aiutiamo noi nel inviarli in queste compagnie. E poi da due anni abbiamo fondato anche noi una piccola compagnia, con la quale cerchiamo di fare qualcosa sempre per poterli aiutare a entrare nel mondo del lavoro. Oggi l'Open Day, sembra che il pubblico abbia risposto con entusiasmo. Assolutamente, sono molto contenta di questa cosa, è veramente una grossa affluenza, questa possibilità anche per i ragazzi di cominciare a far vedere alcune cose, visto che saremo in scena agli Arcimboldi tra breve, per cui comunque è una grossa occasione, sia per farci conoscere come Accademia, sia anche per cominciare a presentare questi spettacoli che avremo al Teatro Arcimboldi. Parliamo di questi due spettacoli, sono quattro date, giusto? Sono quattro date, per me è una grandissima soddisfazione, per cui chiaramente ringrazio anche la Direzione del Teatro, perché dare a un'accademia, quindi non a una compagnia, l'opportunità di fare quattro date sicuramente è un grossissimo onore, un grandissimo gesto di fiducia, nel senso che gli spettacoli sono in cartellone, quindi sono nella stagione dell'Arcimboldi, e quindi è un grande onore. Gli anni passati abbiamo portato Bella Addormentata, abbiamo portato Lago di Cini, Don Quixote, quindi comunque titoli particolari del repertorio. Quest'anno addirittura quattro spettacoli su quattro giorni, abbiamo due Giselle, che ritorniamo sul repertorio proprio più puro e conosciuto, e poi due spettacoli, che sono due pomeridiane, un po' più anche dedicati ai bambini, con un balletto poco conosciuto in Italia, molto famoso invece nei paesi dell'Est, che è Biancanevi Sette Nani. Biancanevi Sette Nani è una storia che chiaramente conoscono tutti, nella forma del balletto non tanto, ma io invito tante persone veramente a venire a vederlo, perché è esilarante come balletto, nel senso che mantiene tutte le caratteristiche del virtuosismo, della tecnica, eccetera, di tutto quello che riguarda la danza classica pura, ma poi con tantissimi momenti divertenti, con i Sette Nani, veramente un balletto particolare.